Il lavoro dei soccorritori a Valencia è andato avanti per tutta la notte. Non sono consentite soste, mancano all'appello ancora decine di dispersi, un numero al momento impossibile da calcolare. La Spagna è sotto shock dopo l'alluvione che ha portato morte e distruzione sul sud del paese. 95 finora le vittime accertate, un bilancio, preannunciano già le autorità iberiche, destinato tragicamente a salire. In otto ore, ha calcolato l'Agenzia Meteorologica Spagnola, è caduta la pioggia di un anno, diventata presto un'immensa marea di fango e acqua alta, fino a tre metri, che ha travolto ogni cosa, strade, case, auto, persone. La regione valenziana è paralizzata, oltre 120.000 persone sfollate, i servizi di acqua ed elettricità ancora interrotti, treni fermi, vie e collegamenti autostradali bloccati, interi paesi isolati e sommersi da melma e detriti. Agenti della Guardia Civile sono stati schierati nei dintorni dei centri commerciali dopo alcuni episodi di saccheggi di cellulari e computer. Inevitabili, come succede ogni volta di fronte a calamità naturali, le polemiche e il rimpallo delle responsabilità. Il governatore della comunità di Valencia è stato accusato di aver sottovalutato la portata dell'alluvione e di aver dato l'allarme con 11 ore di ritardo. Lui ha negato inefficienze e stanziato 250 milioni di aiuti a favore della popolazione. Tre giorni di lutto nazionale sono stati proclamati dal premier spagnolo Sanchez questa mattina in visita sui luoghi del disastro. Il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere che al momento non risultano italiani coinvolti nelle inondazioni. Una nuova allerta meteo è stata tiramata oggi in una parte della regione di Valencia e nella Catalogna, dove per le prossime ore sono previste piogge intense.